Siamo all'ottava lezione. L'esercizio della lezione settima dall'italiano è da scaricare dal mio sito. Proviamo a tradurre da latino le versioni, non le versioni, gli esercizi. Domuit è il predicato verbale ed è il perfetto di domodomas domui. L'unico nominativo che ci può essere è questo che è un nome, Alexander, della seconda declinazione iner. Alessandro domò molte genti all'accusativo plurale fa es ma non se ipsum, non se stesso. Lasciamo perdere se ipsum, ipsum è un complemento oggetto, il se non lo conoscete ancora. Nama propter iram amicum clitum nekavit. Propter ci dice siamo di fronte a un complemento di causa che regge l'accusativo. a causa dell'ira. Guardate che le preposizioni in latino, andatevi a vedere la lezione sulle preposizioni, sono un aiuto perché fanno a sé stante e si può tradurre il complemento con una certa facilità. Quindi infatti uccise l'amico clito a causa dell'ira. Autumno Tritici Grana Agricola Defodit Ieme Semina Tumescunt Et Vere E Rumpunt Allora Defodit Nasconde Ho bisogno di un nominativo singolare L'agricoltore L'agricoltore Nasconde Che cosa? Attenzione Le uscite in A che sono le caratteristiche dei neutri I semi I semi di frumento Quando? In autunno Avrativo di tempo determinato In inverno Iem siemis Terza declinazione I semi Tumescunt Si gonfiano E Ververis In primavera Germogliano L'onga est aspera Fuerunt Bella romanorum In semum samnitium populum Fuerunt Ho bisogno di un sostantivo Non confondiamo gli aggettivi Questi sono gli aggettivi Che fanno da parte nominale Le guerre Dei romani In Lo traduciamo col contro Il crudele Popolo dei sanniti Furono Lunghe ed aspre Bella e neutro Quindi anche lunga ed aspera Concordano al neutro con bella Perché sono parti nominali Abbiamo detto che l'aggettivo Corrisponde Concorde in genere numero caso Col nome a cui si riferisce Nimnia Nimnia Optimatium Potestate Plebs Romana Sedizione Commovit Commovit Vuol dire procurare Determinare L'unico nominativo Che io qui ho È plebs La plebe romana Determinò Sedizione Una sedizione Una rivolta E poi mi rimane Nimia che sta con potestate Vedete l'ablativo E il genitivo Che si incunea dentro Per l'eccessivo potere Dei Dei patrizi Quindi potestate Quindi potestate Nimia è un complemento di causa Micenarum Micenarum Etaliarum Acheorum Arcium Vestigia Aduc Manent Manent Qual è la parlazione Di rimanere Di essere presenti L'unico nominativo Che possiamo utilizzare Qui al plurale È vestigia Poi ci troviamo Di fronte A un micenarum Micene Micenarum E micene Perché micene Come Atene È un plurale Attantum Et Let Ci mette Sullo stesso piano I due complementi Quindi c'è un altro complemento Che fa da complemento Di specificazione E qual è? Aliarum Arcium Aliarum Non sta con Acheorum Perché Acheorum È maschile Aliarum Invece è femminile Che sta con Ax Arcis Che è femminile Quindi I resti Di micene E Di altre Roccaforti Degli Achei Notate il complemento Di specificazione Che a tante volte Si incunia Tra la preposizione E il nome Oppure tra il suo L'attributo E L'altro E il nome Che fa da altro complemento Limpida Acqua Fonzium Puella Cumamicis Flores Aspergeba Chi è che fa l'azione Di bagnare? Bagnava Qui abbiamo Solo Un nominativo Puella La fanciulla Con le amiche O con gli amici Bagnava Flores I fiori Acqua Limpida Fonzium Acqua limpida È un abelativo Complemento Di strumento Con l'acqua Limpida Delle fonti Magna Magna Pluviarum Coppia Flumem Crescit Et pontem Rumpit Quare Multi Vici Civis Et ausilio Orbi Manent Dunque Crescit Il soggetto Magna Coppia La grande quantità Di piogge Crescit Fa crescere Il fiume E Rumpit Ponte E rompe E squassa Il ponte Quare Per la qualcosa Poi abbiamo un altro verbo Manent Cerchiamo un nominativo plurale L'unico Nominativo plurale È questo Multi Vici E Molti Borghi Rimangono Orbi Si riferisce a Vici Rimangono Orbi Ciprili Di cibi E di aiuto Papiri Planta In ripis Dili Fluminis Crescevat Copiosa Et Eius Corticem Antico Egipti Procarta Adibevant Crescevat Chi è che fa l'azione di crescere? La planta Planta Papiri La pianta del papiro Cresceva Copiosa Abbondante Vedete che si riferisce a planta In ripis Sulle rive Del fiume Nilo E Adibevant Chi è che fa l'azione di Adibeo? Usare Il soggetto Il nominativo plurale E gli antichi egiziani Usavano Corticem Eius La sua corteccia Sua ve lo traduce già il libro Procarta In luogo Di carta Juvenum Virtus Et senum Prudenzia Civitate Servabunt Servabunt Il futuro Terza persona plurale Ha bisogno di un nominativo plurale O di due nominativi Infatti abbiamo Virtus Nominativo E prudenzia Nominativo Il valore O la virtù dei giovani E la prudenza Dei vecchi Servabunt Conserveranno In un futuro Le città Accipitrum Rostra Arma Periculosa Ezepe mortifera Avebus Etomidibus Sunt Sunt Il soggetto di Sunt Abbiamo una serie di nominativi plurali neutri Che sono qui Rostra Arma Periculosa Mortifera Quindi noi abbiamo Rostra Cipitrum Il soggetto Gli artigli Degli spalvieri Sunt Sono E poi abbiamo una serie Di altri nominativi Che si concordano con Rostra Che fanno da parte nominale Arme Armi Pericolose E spesso mortali Per chi Per gli uccelli E per gli uomini Canum Sagacitas Venatori Ferarum Latibula Ostendet Dunque qui Ostendet Da Ostendo Attenzione che siamo Un'uscita in Et Siamo nella terza coniugazione Quindi è un futuro Non è un presente E vuol dire Mostrerà Qual è il soggetto Di Mostrerà Ecco Sembra che non ce ne sia nessuno Invece Se noi andiamo Con molta attenzione A valutare i singoli vocaboli Troviamo che Sagacitas Sagacitatis È un nominativo della terza Quindi attenzione A questi nominativi della terza Che potrebbe Sagacita Sembrare un accusativo plurale Quindi L'istinto Sagace Dei cani Mostrerà Che cosa? Latibula Latibula Un latibuli Un neutro plurale Un complemento oggetto Le tane Delle Degli animali selvatici A chi lo mostrerà? Venatori Al cacciatore Che si trova Naldativo Ducum Grecorum Scuta Exauro Et Argento Erant Questo non è difficile Scuta È il nominativo plurale Gli scudi Dei Comandanti Dei Greci Erano E abbiamo Il complemento di materia Doro Ed Argento Matrum Nimius Amor Sepe Filios Corrumpit Corrumpit Cerchiamo un soggetto nominativo E L'unico nominativo Che Perché Evidentemente È la terza declinazione Ha dei problemi Ha dei problemi Perché ci sono Dei nominativi Differenti Però L'innominativo Della terza declinazione Non si può confondere Con nessun altro caso Se io prendo rosa Che è Della prima declinazione Ebbene Potrebbe L'uscita in A Essere anche Un ablativo Mentre Vedremo poi Le uscite Anche Della quarta E della quinta declinazione Invece Della prima È abbastanza chiaro Che la Us Ed è nominativo Però è ancora Più chiara L'uscita Al nominativo Della terza declinazione Che può essere solo quella Al limite Può essere un vocativo Ma lo vocativo Si vede Tra virgole Quindi La amor È un nominativo Ed è soggetto L'eccessivo Amore Delle madri Corrumpit Corrompe Spesso I figli I figli Complemento oggetto Vatum verba Mirum Aradorem Incivibus Excitant Excitant Mi manda ad un nominativo plurale L'unico nominativo plurale Che io qui posso avere È verba Perché è un neutro Verbo Un verbi Le parole Vatum Dei poeti Vatum È un genitivo plurale Suscita E poi abbiamo un accusativo Complemento oggetto Mirum Ardore Un eccezionale ardore Incivibus Incivibus Nei cittadini Castoris Et Pollucis Fratrum Magnus Fuit Amor Inter Se Allora Castoris Pollucis Vediamo che sono genitivi Quindi non possono essere soggetti Però abbiamo un magnus Magnus nominativo Amor Nominativo Quindi L'amore Amor Di chi? Di Castore E di Polluce Fu Grande Fratrum Sta con Castore Polluce Quindi L'amore Di Castore Polluce Dei fratelli Castore Polluce Fratrum Fa Da Apposizione Ai due Nomi Propri Fu Grande Magnus Si trova Prima Della Coppola De parte Nominale Fu Grande Inter Se Tra di Loro Lo traduce Da Il testo Perché è un pronome Non conoscete Ancora Sepe Magistro Lume Parentum Consiglia Juveners Contemnunt Contemnunt Disprezzare Qui c'è Dobbiamo cercare Un nominativo Plurale O un Singolare Qui potrebbe essere Nominativo Plurale Consiglia E Juveners Pure Però evidentemente L'intuizione ci dice Che sono i giovani Che disprezzano Non i consigli Quindi consiglia Un accusativo Un accusativo Juveners Nominativo Consiglia Accusativo Juveners Oggetto Consiglia Complemento Oggetto I giovani Disprezzano Contemnunt Sepe Spesso I consigli Dei maestri E dei genitori Non sempre Sunt In liberis Patrum Virtutes Anche qui Sunt Ha bisogno Di un nominativo Plurale E l'unico Nominativo Plurale Qui è proprio La fine virtutes Le virtù Dei padri Patrum Genitivo Non sempre Sono Nei figli Io adesso Non mi sono fermato Su tutti i genitivi Considerate Che Pater Patris Un parisillabo Dovrebbe fare Patrium Fa patrum Perché è Un Una eccezione Anche fratrum Avrebbe dovuto Fare fratrium Ma fa fratrum Perché fa parte Delle eccezioni Ex ferro Et aere Faber Fingit Magnam Copiam Armorum Et utensilium L'unico soggetto Qui che è molto Chiaro E' Faber Il fabbro Fingit Magnam Copiam Costruisce Una grande Abbondanza Di armi E di utensili E poi Ci abbiamo Un complemento Di materia Ex ferro Et aere Di ferro E di bronzo Dunque Questa dall'italiano La trovate Già tradotta Nella lezione Per scritto Vediamo L'ultima Dal latino Antecenam Antecenam antichi romani Mulsum Bebevant Il mulsum Bevanda Ex vino Et melle Di nuovo Un complemento Di materia Di vino E di miele Ateniensis Ateniensis Ob victoriam Leti Nabis Puppim Floris Coronis Ornaverunt Nominativo plurale Soggetto di Ornaverunt C'è Ateniensis Leti Leti E' il suo attributo Gli Ateniensis Gli Ateniesi Leti E poi traduciamo Quello che si inserisce Dentro Il complemento E il suo attributo Lieti Per la vittoria Ornaverunt Ornarono Puppim Navis La poppa della nave Con corone di fiore Puppim E' uno Amussis Buris Navis Sitis Ma poi c'è anche Puppis Che fa L'accusativo Inim E l'avreativo Inì Fiori Con corone di fiori Con corone di fiori E' un complemento Di strumento E floreis E' messo in attributo Come complemento Di materia Che concorre In genere Numero caso Essendo diventato Un aggettivo Con coronis Ex vallo Hostes Turrim Spectant Dal vallo I nemici Vedono La torre Turrim Oltretutto Avrebbe potuto Deca esserci Turrem Perché Turris Turris Fa Sia Im Che Em Qui E' stato prediletto L'accusativo Inim Turrim L'aratrum Constat Ex vomere Buri Temone Et Iugo Constat Aratrum E' solo questo L'aratro Constat E' costituito Da vomere Pure Timone E gioco Sono complementi Di strumento Sono tutti inablativo Cibis Et Pozionibus Famem Axitim Ex plebimus Ozio Mentes Recreabimus Allora Noi Qui non c'è il soggetto Perché E' noi Sottinteso Quindi Sazieremo Famene Sitim La fame E la sete Sitim E' un altro Accusativo Irregolare Che si trova Nella terza declinazione Faima L'accusativo Con Cibi E con bevande Complemento di strumento A plurale Ricreeremo Le menti Con l'ozio Ozio Attenzione che in latino Non ha significato di ozio Come vizio Ma ozio come riposo Darius et Cerses Persarum Reges Persepolim Miris Edibus Ex marmore Ornaverunt Chi è che fa l'azione di ornare? Ornarono Ci sono chiaramente due soggetti Qui Dario e Cerse Re dei Persiani Ornarono Che cosa ornarono? Accusativo Persepolim Con meravigliosi Edifici Ex marmore Complemento di materia Di marmo Antiquis Tempolibus Medici Ermis Febrim Curavan Antiquis Tempolibus Un complemento di tempo determinato Nei tempi antichi Chi è che fa l'azione di curare? Un nominativo plurale è solo questo I medici Curavano La febbre Con le erbe Di nuovo Febrim Un nome irregolare Che invece di fare M Fa Im All'accusativo singolare Romani Ponte Sublicium Ex linio In Tiberi Edifica Erunt Chi è che fa l'azione di edificare? Nominativo plurale C'è solo romani I romani Edificarono Il ponte Complemento oggetto Sublicio Ex linio Complemento di materia Di legno Dove? Sul Tevere In Tiberi Ricordate che Tiberis Fa I All'avlativo Tutti i nomi Della terza Nomi propri Di fiume E di città Di paese In Is Fanno I All'avlativo E I Mal'accusativo Studia Literarum Et Filosofia In Urbe Neapoli Floruerun Chi è che fa l'azione di fiorire? Qui l'unico soggetto Ossia l'unico nominativo plurale E studia Che è un neutro Gli studi delle lettere E della filosofia Floruerun Fiorirono Dove? Nella città di Napoli Attenzione che Napoli È un complemento di denominazione Per questo vai in avlativo Come Urbe Gli odori di zolfo Gli odori sulfurei Suscitano Che cosa? Sono due complementi oggetti Irregolari Sitim Et Tussim La sete E la tosse Questa versione Infine È già tradotta E la vediamo Poi Eccoli qua Queste sono le traduzioni Ottava lezione Delle tre versioni Dal latino Dall'italiano In latino Dunque A questo punto Vediamo Qualche regoluccia Completiamo Le regolucce Che fanno da eccezione Alla terza declinazione Avevamo già visto L'altra volta Che cosa? I nomi Che termini in um Pur essendo Dei parisillabi Adesso io vi ho già dato Una versione Nella quale C'è già Questa regola Vedete? L'abbiamo appena Fatta adesso Nomi Con l'accusativo Singolare Inim Invece che inem Inlabilitivo singolare Ini Ora Inim Direi che non ci crea Dei grossi problemi Stiamo parlando Stiamo parlando Evidentemente Nella traduzione Del latino In italiano Perché sappiamo Che la M È una caratteristica Dell'accusativo A meno che siano Neapolis Inis Inis naturalmente Inim Inim L'accusativo Ia l'ablativo Questi qua sarebbero tutti Più un complemento oggetto Più che altro Per l'ablativo Per non confonderlo Con il dativo Nomi con l'ablativo Singolare Ini Invece di E Oltre Al gruppo Dei neutri L al ar Hanno l'ablativo Singolare Ini Pur avendo L'accusativo Singolare Regolarmente Inem Seguenti I sostantivi Alcuni nomi Che hanno tuttavia Anche la forma Ine Vabbè Avis Avis Fassiavi Sia Fave Civis Civis Fassive Fassive Inis Inis Fassini Inis Fassine I nomi dei mesi Che benchi aggettivi Sono talvolta usati Come sostantivi Quindi Settembre Settembre Sfai All'ablativo Non è molto importante Questa regola Mentre Sono importanti Questi sono vocaboli Che bisognerebbe imparare Bisognerebbe imparare A memoria Cioè se io dico Non che voi dobbiate dire Caro Iter Jupiter No Ma se uno vi dice La carne Come si traduce in latino Bisogna saperlo Caro Carnis Viaggio Guardate che viaggio È un vocabolo Utilizzato Ma non soltanto per viaggio Viene utilizzato Per via Per sentiero Guardate che è un vocabolo Utilizzatissimo Iter Itineris Ed è neutro Jupiter Che fa Jupiter Iobis Vecchio Che fa Senex Senis Suppellettile Suppellex Suppellettilis Questi Sono nomi Dove il tema Diferisce Del tema del nominativo Diferisce dal genitivo Io più che presentare Questa regola Come un'eccezione Perché Non c'è bisogno Di studiarla Come un'eccezione Assolutamente Imparatela Come vocabolo Piuttosto Imparate questi Vocaboli Non imparatene altri Ma più che mai Qui è importante Sapere il nominativo Genitivo Perché cambia Iter Diventa Itineris Jupiter Diventa Iobis Suppellex Diventa Suppellettilis E poi Anche questi Saperli come vocaboli Non tanto Come Come eccezioni Femur Che vuol dire Coscia Femore Ha due genitivi Femuris E feminis Come iecur Che è fegato C'ha iecuris E iecinoris Conoscerli Attenzione A questo feminis Che non si confonda Con femina femine Che vuol dire Donna Quindi Feminis È un genitivo E come quel genitivo Si concordano Tutti gli altri Casi Facciamo un esempio Femur Femoris Dativo femori Femur All'accusativo Perché è neutro E femore All'ablativo Femur Feminis Femini Temur Femur All'ablativo Femine La stessa cosa vale per il plurale Femora O femina Siamo il neutro Quindi possono essere declinati In due modi differenti La stessa cosa per iecuri Eocineris Che anche questo è neutro L'urale Neutro Accusativo Nominativo Vocativo Fa iecura Oppure iecinora Quindi Senza studiarli Come dei vocaboli Irregolari Direi Studiateli semplicemente Come vocaboli Che si devono conoscere Ma è importante Studiarli Come nominativo E genitivo Qui invece Abbiamo Dei nomi Che vengono chiamati Eterocliti Sono nomi Cioè Che a singolare Seguono una decrenazione A plurale un'altra Vas vasis A singolare E terza Plurale Fa seconda Vas a vaso Non vasis Vas a vas a vasis Qui al contrario Yugerum yugeri A singolare Come la seconda declinazione Yugerum yugerum yugero Yugerum yugerum yugero Al plurale Fa yugera Yugerum yugeribus Yugerum yugerum yugeribus Poi ce ne sono altri Come i nomi neutri Di origine greca Poema poematis Direi che non è così importante Questa cosa qui Quella che secondo me È importante Ma è importante Tanto Qui dovete guardarlo Come prima Bos bovis E il bu È la vacca Ma attenzione Al genitivo plurale Che Vicino alla forma regolare Bovum C'è anche Boum E Al lativo plurale Ablativo plurale Che vicino alla forma Bovibus C'è Bubus e Bobus Cioè Se voi non vi ricordate Questa regola Vi trovate Di fronte a un Bubus Di fronte a un Bobus Pensate che sia Un nominativo singolare Non lo riuscite a trovare Perché Per andarlo a trovare Bubus e Bobus Bisogna andare a cercare Bos bovis La stessa cosa vale Per maiare scrofa Su suis Dove Al plurale Tattivo Ablativo Oltre a suibus C'è anche Subus Ma La cosa Che voi dovete Ricordare Ed è Importantissima Importantissima Non importante Importantissima È questa Vis Roboris Vis Roboris Guardate Andate pure A cercare Il suo vocabolario Noi lo traduciamo Con forza Ma c'ha mille sensi E mille significati E Si declina in questo modo Vis Al nominativo Roboris Genitivo Roboridativo Vim Vis Vi Quindi fa parte di quei nomi Che fanno Im Al accusativo I Al ablativo Plurale È abbastanza più regolare Al plurale Vires Virium Viribus Vires Viribus Ma attenzione Non confondere Vires Con viri Vir viri Sono Gli uomini L'uomo Vis rovoris E vires In modo particolare Al plurale Sono le forze Qui poi Abbiamo una pagina Andatevi a vedere Anche la mia regola Sulle preposizioni Improprie Per distinguere Preposizioni Da avverbi Se non sapete Come distinguerle Che ci dice Che ci sono Delle preposizioni In latino Queste sono Preposizioni Improprie Che reggono Un caso E vi hanno presentato Tutte quelle Che reggono Tante Che reggono L'accusativo Adversus Vuol dire Verso contro Più l'accusativo L'odio contro I nemici Odium adversus Hostis Mi raccomando Non pensate Non fate quel ragionamento Di dire L'odio Soggetto Contro Non si sa bene cosa sia I nemici Complemento oggetto Contro Che cosa I nemici Assolutamente no L'odio contro i nemici È giustificato L'odio soggetto È giustificato Predicato verbale Contro i nemici È un complemento Di svantaggio Ed è Contra C'è anche Contra Sotto Oppure adversus Che reggono L'accusativo C'è un accusativo Non perché i nemici Sia complemento oggetto Ma perché Nemici Eretto da contra E da adversus Che reggono l'accusativo Erga invece In senso più benevolo No La bontà verso gli uomini Di nuovo erga Obines Poi c'è Ante e post Che possono avere Un valore Locativo Davanti Dietro O un valore temporale Prima Dopo Reggono Anche quelli L'accusativo Guardatevi un momentino Questa nota E poi E poi Andiamo di nuovo Qui Qui abbiamo Dei nomi Da studiare Io vi faccio vedere Una cosa Omen Ominis Mi raccomando Omen Ominis Presagio Non è da confondere Con Omo Ominis Con l'acca davanti Che vuol dire Uomo Uno è neutro Omen Ominis Che vuol dire Presagio L'altro L'acca davanti De maschile Vuol dire Uomo Poi c'è anche L'aggettivo Che vedremo Poi con gli aggettivi Che fa Omnis Omne Che vuol dire Tutto Quindi Omen Ominis Omo Ominis Omnis Omne Sono tre cose Completamente Differenti Qui Vi ho messo Il perfetto Di alcuni verbi Finora Noi avevamo visto Dei verbi Abbastanza facili Facili Quelli della prima Che termina i navi Quelli della seconda Che termina i nui Attenzione Che non è sempre così Aguagis Egi Il perfetto Actumagene Dicodicis Dixi Dictum Dicere Ducoducis Duxi Ductum Ducere Mito Mitis Misi Misum Mitere Pono Opponis Posui Insomma Come ho detto L'altra volta Il problema del perfetto Non è la desinenza Perché Egi 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 Quindi Studiare Sempre I paradigmi In modo completo Come si traduce Condurre Ma ago Vuol dire anche fare Ago Egi Egi Ago Agis Egi Actum Agere Bisogna sapere il paradigma completo Mandare Come si traduce Mito Mitis Misi Missum Mittere E poi Vi da dei consigli Il testo Non Lasciatevi Ingannare Vi fa un esempio Mare Maris Mare Maris Vuol dire Mare Mas Maris Vuol dire Maschio Attenzione Sono Forme Omonime E potrebbero E potrebbero fare Entrare In errori Piuttosto Pesanti Mare Vedete Il Mare Il Mare Può anche essere Di Mas Maris Non confondete una cosa con l'altra E voi mi direte Come si fa? È dal contesto Evidentemente che se siamo al mare Non parliamo di maschio Se parliamo di un maschio Non parliamo di mare Bisogna vedere dal contesto Genus generis Vuol dire Il genere E il genere Genere Vuol dire Il genero Ma vedete che Generis Al genitivo singolare È uguale All'attivo plurale Di genere Generi E Generum All'accusativo singolare Generum Di genere Generi È uguale Al genitivo plurale Di genus generis Attenzione A queste forme Omonime Os Oris E viso Bocca Oraore Vuol dire Riva Evidentemente Oris Genitivo singolare Di os È uguale a Oris Del attivo Relativo plurale Di oraore Ovis Ovis La pecora E ovum Ovi L'uovo Il genitivo singolare Ovis È uguale Del attivo Relativo plurale Di ovum Insomma Fare attenzione Vizio Vizi Vizio Vitis Vitis La vite Dov'è che Vizium È uguale a Vitis Nel genitivo plurale Di Vitis Vitis La plurale Fa Vites Essendo un parisillabo Vizium Vitibus Vites Vites Vitibus Per la prossima volta Vediamo Dichiarire Tutte le eccezioni Della terza declinazione Da studiare Le preposizioni Improprie E Completare lo studio Sui seguenti riferimenti In rete Questo è il manuale Pratico Di latino No? E questo Invece Questa è invece La registrazione Sulle preposizioni Improprie Collegatevi E completate Questa spiegazione Poi ci sono gli esercizi Che verranno a essere tradotti E che evidentemente Tradurremo Per la prossima volta Con lo stesso sistema Buon lavoro